Ma benvenuti ragazzoli, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Z Token Battle Siamo finalmente, come potete vedere a schermo, con lezza di Goku Blue, Kaioken e Vegeta Ma prima di iniziare mi raccomando un bel like a questo video Recuperatevi se volete il video in cui andiamo a fare la reaction a Gohan Beast, Orange Piccolo Ovviamente Unit Super Attack dovrebbe essere di Gamma 1 e Gamma 2 LR Signori, andiamo subito a leggere il kit che gli hanno dato perché è veramente clamoroso, ve lo garantisco Abbiamo, come potete ben vedere, Leader Skill che passa a 170% In 12 ki, Greatly Revisate che Defense e Lower Attack che Defense In 18 ki una golosissima Massive Revisate che Defense e Greatly Lower Attack che Defense Quindi come vedete, c'ha anche questa combinazione di 18 ki più 12 ki Che debuffa tantissimo il nemico e quindi potete utilizzarla tranquillamente questa carta Adesso anche per portarvela in degli stage in cui c'è bisogno di debuff Piccolo esempio contro lo stage 3, se non va dirato, sì, della Blue Zone Insomma, dove affrontate Goku, Blue, Kaioken Ragazzi, lo demolite praticamente dopo due turni di questa carta, ve lo dico Detto questo, passiva, ki più 4 attacca di difesa 170% Cambia randomicamente le sfere di un tipo in Rainbow Quando c'è un altro Super Heroes all'interno del team, ve lo anticipo, lo faremo Adizionale ki più 2 per Rainbow prese Adizionale attacca di difesa 7% per Orb prese Adizionale attacca di difesa 70% quando lo lanciate in 18 ki Mentre performa critico e riduce il danno ricevuto del 70% Se gli HP sono al di sotto del 50% o meno Per una volta soltanto Ma quando in 24 ki Ovviamente sempre quando siamo al di sotto del 50% degli HP Attiviamo l'activo con ki più 24 Attacca 70% Difesa meno 50% Insomma, tantissima roba Veramente tantissima roba Andiamo a provare la carta all'interno del team, come potete vedere, di Vegito Blue Insomma, il team classico praticamente di Vegito Blue Dove affianchiamo un Future Per il resto abbiamo Vegito Blue Leader Che gli dà 200% E la rotazione, questa qui, con link perfetti a dir poco 189.000 di difesa Senza considerare le orbe e tutto il resto I link, come potete vedere, sono questi Ma linkano veramente in modo ottimo Ottimo Detto questo, perché poi qui si attiverà Kamehameha Si attiverà Legendary Power Praticamente l'unico che noi riusciremo ad attivare Sarà Tournament of Power Per il resto, partiamo immediatamente Allora, abbiamo queste belle orbe rainbow Che sinceramente me le tengo Sì, facciamo così Allora Se volendo, famo così Mentre andiamo ad attaccare Con Goku, Blue, Kaioken e Vegeta Blue, Evo Casino Allora, qui il massimo che riusciamo a fare purtroppo è questo Cioè prendere 6 orb Di cui 2 rainbow Quindi, ok, in teoria A noi ne servirebbero 3 3 Però vediamo Vediamo un attimino come si svolge questo turno Ok, va benissimo Per il resto voglio solo un attimo darvi conferma Ma dovrebbe essere Best Linker totale Per l'appunto, come vi dicevo prima Vegito Blue In realtà anche insieme a Goku, Blue, Kaioken Questa cosa va detta assolutamente Perché Ragazzi, in realtà Se proprio vogliamo dirla tutta Questa carta Va Andava Attesa Più che altro Proprio per Goku, Blue, Kaioken Che finalmente ottiene un partner A dir poco Clamoroso Confermo Quindi sei lì Vabbè, io sulla carta me l'ho preparato Però 19 milioni Mi sembrano un attimino Più 12 Aspettate un attimo Perché già siamo partiti Con un addition allo super attack Qui, insomma Capiamoci due secondi, eh Sì, vabbò Vabbè, dopo domani Ragazzi, comunque Continuano a fare questi Ezza totalmente sbroccati Agli anniversari Non ho parole Comunque sì, allora Riconfermo Sono sei Link Quindi praticamente Il massimo In realtà Sei Link con Goku Blue Vegeta Blue God Boys Blue Boys Trasformati da God Boys E Goku Blue Kaioken Per il resto Purtroppo poi dopo Passeremo Durante la trasformazione A Vegeta Blue Dei Dei Blue Boys Insomma A Linkare 4 Però vabbè Non è un problema Lo stesso Detto questo Sì Oddio Dall'altra parte Facciamo così Facciamo girare Goku Go God Yes Facciamo girare lui Perché no Perché magari Ce lo becchiamo All'interno Dell'altra rotazione Dopo In cui possiamo Fargli fare Una bella Orbo Manipulation E ragazzi Orbo Manipulation Di Go God Più Orbo Manipulation Sono dei Dei Blue Boys Secondo me Tantano Oddio È un casino È un casino Perché Ci sono loro Che sono Vegito Blue Barra Blue Boys V2 O V3 Come li volete chiamare Mamma mia Troppo casino Goku Freezer Vi dico la verità Non Non mi interessava Più di tanto Anche se in realtà Non è un problema Perché a prescindere Vi dico Probabilmente I Blue Boys Ezza Facciamo così D'ora in poi In questo show case Si chiameranno I Blue Boys Ezza Ragazzi Lo demoliranno Questo Freezer Cioè Sarà una Vabbè 2 Rainbow 3 4 Rainbow Si Vabbò Dai Ragazzi Dai Dai Ma perché Questa cattiveria Ma perché Questa cattiveria 17 milioni Comunque Abbiamo fatto di più Prima in quel Primo turno Capiamo un attimo Perché qui però Abbiamo preso Un Fottì e mezzo Di Orbe Rainbow Ragazzi Abbiamo fatto palesemente Meglio prima All'interno di quel turno precedente Ma Comunque Cioè Prima erano infolliti Prima erano infolliti Non che ora non lo sia No eh Ma fanno Ragazzi Fanno Fanno roba Pazzurda Pazzurdissima Non ho parole Io non ho veramente parole Allora Detto questo Proseguiamo qui Mi fa solo un po' paura Bulma Vi dico la verità Sincero quindi Sto Golden Freezer Fa tanti danni Questa è la fase principale Di questa Red Zone Di questo stage Quindi Facciamo così Evitiamoci problemi Da soli Ecco Auto evitiamoci problemi E Prendiamoci quantomeno Un Wies Tanto loro comunque A prescindere dal punto di vista Difensivo I Blue Boys Mi sa che non vi ho fatto vedere La difesa Turno 2 Ve la faccio vedere Successivamente Tanto non c'è problema Non è che se la staccano Di continuo E Loro comunque A prescindere E Si sono buonissimi Difensivamente parlando Nel post Soprattutto perché poi Vi andate a fare Un Massively Che è veramente pesante Cioè Il moltiplicatore Massively Anche sulla difesa Se vogliamo È importantissimo È devastante Quindi di sicuro Noi il milione Passa di difesa Credo che Lo riusciamo a beccare Nel post special Però comunque Sapete benissimo Che ormai Con gli ultimi stage E tutto il resto Ragazzi potete averci Quanti milioni volete Difensivamente parlando Ma Vi schiattano lo stesso Come se nulla fosse Quindi Quindi questo Wies Sinceramente Arrivati a questa fase È doveroso È Più o meno come Come Diciamo Utilizzarsi l'item Nel momento in cui Si raggiunge La fase finale Contro Broly Contro Broly Però ai tempi Broly Red Zone Ovviamente 155.000 Ok Allora Probabilmente avremmo Comunque resistito Però non mi fido Lo stesso Detto questo Vediamo adesso La difesa Sempre 189.000 Ok 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 Allora Quante orbe abbiamo Qui È un bel po' di orbettine Cavolo Guardate che orbe Manipulation Ci sono fatti Questi pazzoidi Guardate che orbe Fermi tutti Fermi tutti 12 con 2 rainbow Nel mezzo 3 rainbow Facciamo così Vai Andiamo per la quarta No 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 3 rainbow Fermi tutti Vai Dobbiamo far partire Questo turno Immediatamente Immediatamente Lo dobbiamo far partire Best turno ever Probabilmente potrebbe essere Questo qui Capiamo un attimo Sempre che non ci crepiamo prima E attenzione Il problema qui è stato attivo Però abbiamo perso la guardia Facciamo attenzione Vediamo Ok Perfetto Fatemi vedere un attimo una cosa Perché le rainbow Eh Le rainbow ci aiutano Ci aiutano le scienze di critico Ci aiutano La riduzione del danno Aggiuntiva 19 milioncini Perfetto E ci aiutano anche i super attack Fino a 3 Quindi noi più rainbow prendiamo In teoria Più abbiamo possibilità di lanciare Più abbiamo le alte chance Di lanciare i super attacchi Quindi noi potenzialmente Contra il rainbow Possiamo arrivare a fare Fino a 4 super attacchi Comprensivo di 18 Che lanciamo ovviamente all'inizio Si spera Con questa carta Ragazzi come vedete Sta mezzo a demolisto Golden Freezer Un po' mi dispiace Sono sincero Stanno facendo delle cose Clamorose ragazzi Cioè Parliamo di un Ezza Che carica 20 milioni Alla prima special Può caricare 20 milioni Alla prima special E ne fa altri 12-13 E io dico che ne fa Altri 12-13 Più 20 milioni Ragazzi Perché comunque considero Che bene o male Un po' tutti ce li abbiamo Ad ability molto alta Ma non so onestamente In quanti possiate dire Di avercelo ad ability full Io non Se non sbaglio Non ce l'ho ad ability full Su nessuna delle due Versioni Però comunque ad ability molto alta A prescindere Dovrei averceli Ora si scopre che in realtà Li tengo ad ability full Entrambe Però comunque si Essendo un Ezza LR eccetera È da considerarsi comunque Una carta Da Ragazzi Sapete che vi dico In realtà Qua comunque La starella Perché Vegito Blu Non mi fa stare Iper mega Tranquillo Abbiamo Abbiamo un altro Whis assolutamente Ci fa Ci fa pentire Di essere nati E per il resto Sì dobbiamo lanciare Questo turno E In realtà Sperare Anche se sapete Una cosa Ah beh dai Lanciamocelo Lanciamocelo E non fa niente Allora Speriamo di chiudere Tutta la situazione In realtà ecco Io avrei potuto lanciare La Giant di piccolo Anche se poi avremmo perso tempo Ve lo dico Lanciare la Giant di piccolo E chiudermi direttamente Oh perfetto Grandi Blue Boys Vegito Blu Goku Blu Vegeta Blu Insomma avete capito Quando fanno entrare Le Leva ragazzi Una goduria Veramente una goduria totale Peccato che il danno Vabbè Però In realtà C'ho qualche dubbio Pure se Fossimo riusciti a chiudere Seriamente Con Con la Giant di piccolo Sapete Ah beh comunque A prescindere Se fosse stata una run Seria Non showcase E tutto il resto Di sicuro Arrivati a questo punto Avrei attivato La Giant di piccolo Già solo per evitarmi Il problema special Di questo golden E tutto il resto E poi perché Oddio Non vogliamo La run la vogliamo Portare a termine Quindi la Giant di piccolo E tanta roba Tanta roba Ragazzi Sottovalutatissima Sottovalutatissima Giant fenomenale A dir poco Sarà lenta Quanto vogliamo Farà poco danno E tutto il resto Ma è Incredibile A dir poco Incredibile Vi da un vantaggio Che non ha senso Potete chiudere Delle run Ma perché sto parlando Della Giant di piccolo Dovrebbe essere una cosa Che dovrebbe essere Risaputa Del tutto Perfetto Allora Io direi che qui Chiudiamo abbondantemente E potremmo fare E potremmo fare In realtà Anche una cosa Se vogliamo Ok 189 mila Sempre Potremmo fare Una cosina Potremmo fare Vediamo un attimo Se ci abbiamo attive Perfetto Potremmo fare Così Visto Visto che comunque Mi sa che a Bulma Non ci torniamo più Raga Ve lo dico 354 mila Di difesa Ecco Ve la dovevo far vedere Praticamente Nel momento in cui Prendiamo le orb Ragazzi Qui Vabbè Questa è un po' sballata Questa è un po' sballata Diciamolo Abbondantemente Sballata In realtà Detto questo Tanto Bulma Non credo che L'avremmo Acchiappata Nuovamente Vabbè Questo è un turno Particolare Questo è un turno Particolare Parliamoci chiaro Perfetto E vabbè Poi qui alla fine Bello che è finito Insomma Lo stage Qui Mogolden Si mette a fare Le sue varie I suoi vari countdown Possiamo fare Una bella cosina In realtà Possiamo attivare Questo Goku Ok Perfetto Ottimo Questi sono countdown Quindi possiamo stare belli Tranquilli Per il momento Quindi famo così Famo così E vabbè Aspettiamo giusto Goku Blue Kaioken e Vegeta Che ce la chiudono Ma Insomma È bella che è chiusa Ragazzi Io vi inizio già a salutare Vi inizio a chiedere anche Cosa ne pensate di questo Ezza Che è veramente Clamoroso Per quanto mi riguarda Veramente sono Dei valori Sballati Secondo me Sballati a dir poco Detto questo Fatemi Raga Vi avrebbe a disco Inutile che andiamo avanti Perché Finito con Colden Freezer AGL È praticamente finito Tutto l'evento Detto questo Fatemi sapere Che ne pensate Qui sotto Se vi ha convinto Come Ezza Io credo proprio Di sì Perché C'ha dei linker Clamorosi Può giocare In degli ottimi Veramente fantastici Team Vi richiede Come Semplicemente Come condition Super hero Per fare Super heroes Per fare L'orba manipulation Ma per il resto Siamo veramente In una tranquillità Esagerata E Niente Valori Valori A dei poco Spropositati Certo D'ability full Ma ragazzi Non credo che sia Utopia Avercela D'ability full Soprattutto Per Per chi Magari Ci ha dato Abbastanza Dentro Con l'esamore Vediamo Solo un attimo Purtroppo Non riusciamo a lanciare Però l'active Questo è un gran peccato Anche se facciamo così Abbiamo sopperito Praticamente Al turno Di active Se vogliamo Tramite Quella Orb Manipulation Che abbiamo Fatto Con bulma E Vai Vai Dopodomani Dopodomani Allora Io vi dico una cosa Gli faccio lanciare Giusto Quest'ultima Botta Non trasformo Nemmeno Vegito Perché poi Gli vado a far Perdere Quella Che è La loro Il loro Link set Perché se poi Trasformo Vegito Blu Purtroppo Noi C'è solo una cosa Veloce Veloce Questa La lanciamo Così Giusto per il Meme Per il resto Poi concludiamo Dopo questa special Anche perché Poi questo Concluderà il countdown Farà i suoi casini E tutto il resto Tanto non ci interessa Lo stage è praticamente finito Vediamoci giusto Quest'ultima special Da 17 milioncini e 44 Vediamo Fin dove riescono ad arrivare Magari non si sa mai Che lo chiudono proprio loro Vediamo Ah beh Tutto a posto Ragazzi C'è manco bisogno Di chiudere direttamente Prima di arrivare Agli attacchi finali Eccetera eccetera Ragazzi Vi voglio bene Vi ringrazio tutti Mi raccomando Recuperatevi La reaction A Guan Beast Range piccolo Artwork clamoroso E tutto il resto Signori Noi a questo punto Con questi due Mostri da dir poco Ci diamo appuntamento Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video